buongiorno sono lisa di splash spa e oggi vi presentiamo il massaggio hydrotherm si tratta di un massaggio rilassante fatto su cuscini ad acqua caldi comprende tutto il corpo ed è disponibile nella versione da 50 o da 75 minuti questo massaggio è particolarmente indicato per le donne in gravidanza e gli sportivi ma tutti possono rilassarsi il lato positivo di questo massaggio è che viene svolto tutto a pancia in su ma grazie di cuscini ad acqua riusciamo a massaggiare ed avvolgere il corpo sia nella parte anteriore che nella parte posteriore vi ringrazio e vi invito a seguirci sui nostri social per tenervi aggiornati su tutte le nostre promozioni buone feste